Agli Sport Days anche teatro e cultura con il Clan H che metterà in scena uno spettacolo semiserio sullo sport e sull'alimentazione. Andiamo ad ascoltare. Sì, con il professore Saviano abbiamo sempre cercato di dare qualcosa di diverso a questa manifestazione. Quindi la presenza del Clan H è un po' la ciliegina sulla torta dal punto di vista sì spettacolare, però lo spettacolo che mettiamo in scena stasera è molto vicino alla cattiva alimentazione, alla cattiva gestione di sé e anche alla cattiva utilizzazione dello sport. Tant'è vero che io sono uno di questi esponenti perché dalla vita frenetica che faccio ovviamente non posso appieno essere uno sportivo anche per l'età che ho venerando. Prof, non sarà un one man show ma come ha detto in precedenza c'è il suo clan? Sì, c'è tutta la compagnia, diciamo una parte della compagnia perché la nostra è una compagnia abbastanza numerosa che insieme a me farà questo percorso di una compagnia fuori dal comune. È un po' uno spettacolo metateatrale dove una compagnia scalcagnata cerca di mettere in scena uno spettacolo per delle suore.